La Sansovino nella prima di Coppa Toscana al Lefonte si aggiudica l'intera posta in pali, ipotecando il risultato già nella prima frazione di gioco con le reti di Bianchi e Biscolo Parrino. Parte bene la Sansovino che guadagna una certa supremazia territoriale e prende in mano l'iniziativa del gioco con il Piemattoppo che fa una gara di contenimento e cerca di ripartire in contropiede. La Serra lanciata a rete fa tutto bene, evita l'uscita di Tavanti ma al momento di concludere non inquadra la porta. Il Piemattoppo con un'iniziativa di dridi safe che chiede lo scambio a Malentà che poi conclude a rete, Poponcini si allunga e si rifugge in angolo. Scampato il pericolo la Sansovino si riversa in avanti a seguito di un contatto agostino Biscolo Parrini, il direttore di gara segna il calcio piazzato e i padroni di case dello stesso Biscolo Parrini a scodellare nel mezzo dove arriva a puntuare Bianchi che da sottomisura sblocca il risultato. Il Piemattoppo accusa le colpe e la Sansovino raddoppia a seguito di un lungo lancio dalle retrovie, Biscolo Parrini ruba del tempo a tutti, evita l'uscita di Tavanti e metta a segno la rete che blinda il risultato. Nella ripresa il Piemattoppo abbozza una certa reazione, però è sempre la Sansovino a rendersi pericolosa, scambio Nicola Bianchi e Tavanti anticipa Benucci al momento di concludere. La Sansovino comunque non si ferma e va a serva ancora a segno, però la rete non viene collaudata perché il direttore di gara lo considera in fuorigioco. Naturalmente il Piemattoppo non resta a guardare su un calcio piazzato di Palazzini, ma l'intacchi trova il tempo giusto per indirizzare a rete la sua deviazione aerea e accorciare le distanze. Adesso la Sansovino mantiene il possesso palla, non vuol rischiare, nel finale Nicola serve sul secondo palo Biscolo Parrini che da buona posizione spedisce al lato. L'ultima emozione di un match che è servito soprattutto ai due tecnici di ultimare il rodaggio della preparazione precampionato.